Buongiorno a tutti, mi chiamo Danielle Harrison e oggi andremo a vedere il testo introduttivo di questa giornata che si trova nel capitolo 6 del libro di Matteo al versetto 20. And the verse reads, il versetto dice, ma fate i vostri tesori nei cieli, dove la tignola era ruggine e non corrompono, e dove i ladri non scassinano e rubano. I know that in my history there were many things that became in the forefront of my life. Nella mia esperienza ci sono state tante cose che sono state in prima linea nella mia vita. Many empty things that became my treasures. Tante cose che erano vuote e sono diventate i miei tesori. And in essence these things did not tend to edify or upbuild my character. Ma queste cose non hanno edificato il mio carattere. But rather these things took control of my life and degraded me. Ma piuttosto hanno preso controllo della mia vita e mi hanno degradata. And whether you have an extreme history like mine or something more subtle. Sia che si tratti di una storia estrema come la mia, oppure qualcosa di più normale. All of us live in a sinful world. Tutti noi viviamo in un mondo corrotto dal peccato. And we are all in danger of becoming idolaters. E viviamo nel pericolo di diventare seguaci di un idolo. Because anything that takes our focus off of God becomes an idol. This is how I have learned to view my history with the things that I used to take part in in the world. Questo è come io ho imparato queste cose per mezzo della mia esperienza nel mondo. And this thought, I believe, is confirmed in this quote. E penso che in questo versetto, questo principio viene confermato. It says that selfishness is a soul-destroying sin. E vi leggo ora una citazione che dice che l'orgoglio è un peccato autodistruttivo. Under this sin comes in covetousness and this is idolatry. Per mezzo di questo peccato ne vengono altri, come per esempio il desiderio di ottenere altre cose. E questa è un'idolatria. All things belong to God. Perché tutte le cose appartengono a Dio. All the property we enjoy is a result of divine benevolence. E tutte le proprietà, tutte le cose che possediamo e possiamo godere sono il risultato della sua benevolenza. I'm going to repeat that last sentence because I said it's beneficence, not benevolence. Okay, that's fine. All the property that we enjoy is the result of buying... Okay, sorry, one more time. All the property which we enjoy is a result of divine beneficence. E tutte le proprietà di cui noi possiamo godere sono il risultato del beneficio divino. And the fact that we may have the opportunity to exercise self-denial, love and sympathy... E il fatto che noi abbiamo l'opportunità di esercitare la simpatia verso gli altri... E la auto-sottomissione verso gli altri... Exercising these things towards our fellow man... Verso coloro che sono i nostri fratelli e sorelle. This is how we become highly exalted. Questo è il modo nel quale noi possiamo essere esaltati. So we look to the things of the world to fill the space inside of our heart. E quindi noi cerchiamo alle cose nel mondo, cioè ricerchiamo nel mondo un qualcosa che possa riempire i nostri cuori. And to give us purpose and meaning in life. E che ci dia un significato e un senso alla vita. Ma questo può avvenire soltanto se utilizziamo il metodo di Cristo e i suoi principi sulla nostra vita.